niente per cui ah ma tu ecco se uno di quelli te lo devi fare ho detto se lo vuoi sapere davvero come tutti quelli che stanno adesso eh esatto costa più o meno come quello normale perché quello normale costa 15 15 da noi da me costa 15 vabbè ma la salute non ha prezzo eh certo ma c'è 8 euro da te mi che fanno lo sconto perché non li compra più nessuno ormai è finito il covid ma adesso c'è anche il farmaco il farmaco antivirale no? ancora non è uscito stanno facendo sperimentazioni sono in streaming per adesso stanno sperimentando anche il il vaccino da aerosol diciamo vaccino però non è un vaccino si spruzza nelle vie aeree e lo sblocca quindi hanno fatto il giro e sono arrivate le scie chimiche proprio in aeree scie chimiche no è il tipo di nazismo ma il nazismo scusa è il tipo di nazina un po' pesantino ciao Stefano ciao Stefano ciao ecco dici nazismo esce Stefano eccomi qua eh vabbè comunque comunque era il giorno giusto quindi è tipo il nazismo per dire vive il nazismo ecco spero iniziamo online no no siamo online questo istante ah ok beh ma Stefano noi ci dissociamo da Stefano cianzio canale chiudete l'incipulato si proprio qualcosa tu parla cioè quando parli tu è come se parlasse il codro vero allora quando dico cose illegali quando dico cose legali videogiochi videogiochi no figurati io no no ragazzi questo è molto bello io invito la gente a casa a stare da me figurati non cioè ascoltato dalla tua parte altro figurati no 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 non ci credono che sono il codo ho capito il covid il covid no Batman ha fatto il trailer di The Batman ha fatto con ah ma oggi è il mitico giorno in cui Mirko parla di Batman mi sono anch'io si ma ho visto con Adam West però cioè hanno messo la scarica di film ma l'hai visto o l'hai ascolta no li ho visti li ho visti perché vi ho detto non ero tanto in forma e quindi l'ho buttato sul divano e li ho guardati non è da te infatti infatti guarda mi col giorno bastava un nuovo sguardo per vedere tutto il film adesso invece esatto esatto hai scelto proprio due filmoni sarà per quello che sto così ragazzi è molto bello questo trailer io ve lo vi dico eh linkalo che consiglio metto l'ho linkato dove su la chat ho anche cominciato se chiero fa su la chat di la chat boh arriva secondo me eh vabbè ho capito di discord del podcast eh non so non lo so no guarda secondo me come sistema il combattimento è ancora al top è molto bello ma direi perché secondo me è anti intuitivo la meccanica alla base di tutto e mi dava vabbè è from software non c'è no ok però proprio c'è quel discorso del dove il bloodborne te dovevi sempre attaccano qua col fatto anzi quello che è andato bene col fatto che te tieni devi tenere sempre la parata praticamente no 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 qua no come no sì perché la parata alta ti ricarica ti abbassa l'equilibrio no cioè ti muoviri a zera no devi cercare il pinguine sì colpisci però loro quando ti colpiscono ti sale a te la barra no della della postura come la chiamano sì ma a me mi sembra che quando stai non imparato eh no Fabio no esatto e vedi che è proprio controintuttivo è che tu devi stare imparata per riabbassarla più velocemente è una stronzata non me lo ricordo è proprio una cosa in controsenso che mi fa uno strano cioè va proprio contro il mio cervello fa sta mossa proprio bello però se io non voglio infatti no bello bello per carità poi dopo vabbè a me il Giappone quello lì ma noia subito praticamente però ciao ciao Stort ciao Doctor grazie per il Prime ciao Sippo ciao Belli Punkad ciao Stefano grazie per il Prime chiede Doctor se qualcuno è visto The Northman io no io ci dovevo andare oggi alla fine ho ripiegato sugli idoli delle donne ah beh proprio cioè siamo lì immagino no ci andrò ci andrò ci andrò penso questa stessa lì 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 il Corrado Guzzanti più o meno siamo ah c'è Corrado Guzzanti fermi sì e fa una parte anche molto bella è sempre la sua ma c'è hanno fatto hanno fatto un film di lui e Greg beh ne hanno fatto più di uno però sì 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 è uscito adesso ma mia non ne sapevo niente ma hai dotato con una brutta notizia con la morte del parente però beh ma ne hanno fatto ma tanti anni fa cioè non è che non ne sapevo niente ma lo so Bruno ma dimmi la roba sei riuscito a farla saltare la corrente grazie al soffia foglie no no ma perché qua siamo passati a tipo 5 kilowatt massimi per ma la differenza di prezzo non è tantissima però quando abbiamo messo i condizionatori ho visto un attimo quindi già capiamo la tua scelta su questo sul fatto se preferisci la pace o il climatizzatore hai già scelto ma guarda penso che comunque io sia abbastanza cioè non sono sicuro di spendere di più perché non avendo il gas come riscaldamento e acqua calda non so se se compenso con l'uso dei condizionatori infatti questa cioè questo inverno mi è arrivata una bolletta grossa dopo l'inverno sì vabbè un po' tutti arrivano ho usato i condizionatori come pompa calore però non non così grossa come quando non avresti voluto no come quando mi arrivava la bolletta del gas dopo l'inverno allora e quindi non lo so certo perché non ho fatto un calcolo matematico e è così quindi tra l'altro oggi leggevo che ovviamente sul mitico Ken Fosh che non tutti sanno che nonostante la guerra la maggior parte del gas russo passa attraverso l'Ucraina e la Russia sono tutti ma io non lo sapevo sì sì e la Russia continua a pagare l'Ucraina nonostante che la bombardano eccetera ma nel frattempo la paga per far passare il gas gli affari sono affari mi verrebbe una battuta sul fatto del presidente della Russia dell'Ucraina però non la farò e vabbè perché siamo su tutti ma ci facciamo queste scrupoli io me li sono sempre fatti anzi oggi me li faccio puri di meno rispetto a un tempo ormai si è spregiudicato sì sì ormai c'ho il cappellino messo al contrario quindi non mi non mi prende più nessuno oh partiamo sì il secondo che finisco di dicevi mi fa no ho detto mi credo che ha parlato anzi no metto la sigla e poi finisco facciamo tutta la puntata parlandoci piano come Batman e Gordon dentro il commissariato mamma mia ma tutti in quel film ma adesso c'è o arriverà in ritardo in ritardo la mia amica ha perso i documenti adesso farei adesso farei finta di darmi un pugno uscirai di fretta sì mamma mia esseremo molto disinvolti nessuno penserà che ci stiamo mettendo d'accordo 6.000 persone tutti lì che ascoltavano guarda quello che è core è proprio terribile ma ancora stai dando contro il povero Batman che è Mirko Mirko perché Mirko l'ha visto con il conigliasso non dicevo per me sì infatti il conigliasso ormai l'avete ferito pure al cuore no non dicevo più niente l'avete ferito al cuore anche gli daremo il colpo di grazie povero conigliasso dobbiamo salvare abbiamo una persona no la soldata la soldata c'è Ludo Charlie che sai quelli che si tagliano lei più o meno ha fatto la stessa cosa perché ha scritto ieri pomeriggio mi sono sparata tutte le puntate disponibili di Halo e mi è piaciuto abbiamo un problema infatti ormai aspetto la recensione settimanale di Matteo per non vederlo ma scusa facciamo dobbiamo motivare in maniera sessista questa cosa così almeno diamo un significato o anzi non un significato come si dice una sì una motivazione sensata ecco va beh aspettiamo la sigla sì sì ok a due per Bruno però mi sa 3 2 1 bentornati bentornati in una nuova puntata di Free Playing il podcast libero come il 25 aprile come l'Italia che il 25 aprile si liberò da chi si liberò ragazzi da Stefano Biggio da Stefano Biggio che è con noi insieme a Bruno Barbera ciao a tutti ragazzi viva le libertà Mirko Perfederici ciao ragazzi ciao a tutti Matteo Bexoft ciao e Fabio di Felice ciao ciao Stefano l'ho presentato praticamente due volte esatto a basso le libertà un saluto a basso un saluto e anche la libertà delle parti basse sarebbe andare in giro senza mutande oggi oggi erano tornati un po' di bambini dell'altra volta però erano quelli grazie me l'ho dimenticato però dove una registrazione dell'audio ma infatti ci ho pensato però erano pochi e quindi erano un po' più intimoriti Bruno senti a me registrazione dell'audio mentre li soffi via con lo sparafoglie infatti Bruno io vorrei partire con questo extra credit del del tuo nuovo acquisto anche se io sono sempre team idropolitrisi si parlate di qualcos'altro per due secondi finisco di spammare allora oggi è il 25 aprile noi siamo qua in diretta a festeggiare la libertà e voi con noi perché vedo che c'è gente connessa vorrei salutarli c'è il signor branchia c'è Ludo Charlie c'è Stefano B che è qui con noi ah io vorrei salutare e vorrei fare un saluto un caldo abbraccio alla nostra altra ascoltatrice che è Nick che ho conosciuto la gelmi dici e domenica no Nick è il suo Nick non so come ricordo su come si chiama che ho conosciuto eh ti è venuto a cercare sotto a casa minacciandoti cosa chi Nick no 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 sono andato al ristorante dove lavora insieme al buon Edo ex albastratta per chi si ricorda grande albador e che si trovava a passare per Roma e quindi ci sono andati a mangiare del pesce stanno facendo la la marcia speriamo che il ristorante non chiuda perché è così eh non sai magari Nass no no è andato tutto è andato tutto bene abbiamo abbiamo mangiato se andate a mangiare lì e avete scoperto che c'era un'ascoltatrice lì no 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 io so che lei ha lì questo questo ristorante scusate che è questa storia dei Nass che io non lo so niente no non lo so niente no e Simo dopo che mi ha portato a mangiare ramen a Roma ah ah ma dopo che sono dei Nass ci sono anche tornato eh anche io anche io ci sono andato ha sofisticato i cibi anche se poi quando provi altre cose poi quello ti rimane molto molto commerciale però specialmente imparare di Cino dai eh sì 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 e quella volta era buono comunque no no è buono è buono è buono però è scopo no scherzo non avevo intendeva che per Mirko era buono poi per gli altri invece per gli altri ma per i Nass meno buono molto buono molto buono e se ti piace è buono se sei dei Nass meno buono no esatto e e quindi abbiamo fatto questa questa questo pranzo molto molto bello siamo contenti e ed è è anche uscita fuori una giornata bella perché doveva essere nuvolo doveva essere invece invece c'era un po' di vento ma si stava bene siamo stati molto questa alba dorata che non lo vedo da Bologna bene 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 non so questa cosa la posso dire è andato in ferie ha fatto scalo fiumicino lui sta a B vicino a B no a Brindisi scusa a Brindisi e vabbè non ricordo mai comunque in Puglia a Brindisi puoi fare un Brindisi ma a Roma non puoi fare un Roma esatto a Roma puoi fare le marce e e quindi niente passava e passava e ci siamo ci siamo trovati è stato molto bello molto anche abbastanza alcolico è stato però tutto bene e poi Nick ha portato dei dolci ha regalato dei dolci insieme al caffè sai che si mettono quelle cosette c'era una specie di bomboniere per chi si ricorda gelato che erano di cubetti no ragazzi ma non erano proprio bomboniere perché erano fatte tipo artigianali non lo so era pure la bomboniera no la cosa dei cubettini di cioccolato freddi che il tempo che si squagliano un po' col caffè ragazzi è una roba una roba spaziale spaziale si 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 ma bomboniere abbiamo chiuso in una cassa con gli scopi comunque sente malissimo stasera o so solo io no io lo sento normale io lo sento normale ah va bene quello è normalmente uno registra quindi quello mi senta bene che mi senta male allora ma come fate sentire bene mi senti male che ha senso io lo sento bene però mi sa che ce l'ho tipo a 3.000% il volume ah beh l'importante perché poi registrazione sarà quella di Bruno quindi mettere a 200% lo sentirete bene comodo fanno bene ho il volume al 95% cosa vabbè di fatto a sto destro volume eh ma che che tribo tanto tu con Fabio non parli infatti dai dai Fabio ci rivolgiamo la parola sembra sembra la trasmissione del 1945 quando è che vuoi dire qualcosa a Fabio di Cibru puoi dire a Fabio puoi dire a Fabio no o Fabio ha detto Stefano no per quella cosa cioè tu mi senti tipo eh grazie perché la vostra liberazione ma che è coli che cosa è scatenato è scatenato il fantastico mondo di Frank sente meglio così meglio così allora parlo tutto il tempo così come l'istituto luce e oggi è giornata è giornata comunque sto facendo vedere in chat su twitch il video di Don Frye che dicono che sia stata l'ispirazione per Agar di Final Fight il nostro John Dulune con lo pizzetto con l'altro è che ci sta effettivamente questo qua con i gassoni è un po' magnumpiai piazzato bene ragazzi noi stiamo continuando a dire cose perché poi è entrato Alessio ciao Alessio eccoci Leonardo siamo nella diretta di Fruit Point mi senti bene o mi senti come negli anni 40 oh che quasi ti sento un pochino distorto ti sento bene Ale ti sento bene Stefano non ti ho mai sentito così bene ti devi dire che lo senti male è come se lo stessi sentendo da un paio di air post pro ce lo so ecco distorto distorto in che senso oddio scusate ragazzi non potevo immaginare che ha il fine distorto io vorrei chiedere a Mirko sì Mirko quanto hai pa perché Activision dichiara Call of Duty Modern Warfare 2 sarà l'esperienza più avanzata nella storia della serie Activision Blizzard è molto fiduciosa dei prossimi giochi della serie Call of Duty con Modern Warfare 2 che sarà l'esperienza più avanzata nella storia ma Modern Warfare 2 non è già uscito infatti 12 anni fa tipo ragazzi è Free Brain memorabilia sto aprendo tutti i multiplayer del 2012 adesso c'è un approfondimento su Wii U facciamo una puntata un po' così no no perché c'è il no non lo potevo sempre scusate puoi dire a Simone allo stesso modo puoi dire a Fabio di dire a Simone ma ti stai ancora ti stai facendo ancora Fabio ha detto ha detto Stefano se dice a Simone se ti stai facendo ancora vabbè Simone ti stai facendo ancora e chiama Smith comunque Bru dia a Stefano che ho detto a Simone se ti stai facendo ancora ha detto chiama Smith no ma io io lo sento di no Fabio ha detto Stefano comunque ragazzi io sto avendo un problema neurologico sarebbe uno dei tanti oppure questo articolo io Signor Stefano che scrive l'articolo non dico il cognome ma signor Stefano io non lo so che cazzo o hanno tradotto i tradotto male oppure no no stavo leggendo su multiplayer perché se io leggo velocemente scorro non si capisce che c'è il remake perché allora quella storia di Modern Warfare 2 sarà l'esperienza più avanzata nella storia della serie stando a quanto afferma Activision Blizzard è solo se conto per gli azionisti allo stesso modo la compagnia sembra di grande fiducia anche nella prossima iterazione di Call of Duty Warzone ok poi c'è il risultato quindi tu Simone hai pensato che tipo era non lo so una ti avevano tipo rimosso le memorie falsificato le memorie quindi in realtà in realtà no io lo so che c'è Modern Warfare 2 non era mai uscito e tu invece pensavi che fosse uscito no 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 dovevamo fare la parte ma hai visto che esce Modern Warfare 2 Simone non è un remake hai visto che finalmente hanno fatto il seguito no 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 sto dicendo un'altra cosa io lo so che c'è il remake e tutto però e Fabio non so ricorda non so chi è che diceva no ero io ero io ma veramente non lo sapevo ma io sto mentre voi parlavate ho letto la notizia per vedere e non c'è scritto da nessuna parte nella notizia che è un remake che capito vediamo 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 facciamo con la funzione di di remake non c'è vediamo tra i motivi ci sono le vendite sottotono sottotono dell'ultimo capitolo della serie ovvero con la serie Vanguard ma la compagnia ha grandi aspettative dal sequel di Modern Warfare e di sviluppo presso gli studi di Infinity War effettivamente sembra il sequel ragazzi è prossimo noi che ci hanno manipolato le memorie pensiamo dove lo ricordate io mi ricordo io mi ricordo che c'era c'era quella fase iniziale nella Nive con i picconi voi lo ricordate e quello è il primo è Modern Warfare 1 ragazzi andiamo sotto quello è il 2 quello è il 2 è il seguito del reboot del primo uscito un paio da anni e quindi è il seguito di Modern Warfare Modern Warfare Modern Warfare ah no eccolo di Modern Warfare 2 è un videogioco spara tutto anse prima 10 novembre 2009 e quindi sì e quindi ci ricordiamo bene l'effetto il Mandela Effect non ci ha preso esiste davvero Modern Warfare 2 non ne so di tanto sicuro stanno facendo in seguito e sarà l'esperienza più avanzata nella storia della serie perché perché hanno detto nella storia della serie forse c'è qualche indizio in questa frase in questa parola storia forse intendono che vogliono riscrivere la storia che Modern Warfare 2 originale perché poi si stanno dissi con i piedi con i mignoli dei piedi e forse anche l'originale anche quella da cui è stata tradotta ma veramente la roba vediamo la fonte investo .activision che fonte è investo è proprio il sito ufficiale di Activision per gli investitori investo .activision c'è 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 in seguito che sarà il migliore della storia in questo .activision va beh Mirko tu hai aspettative su Call of Duty tu che giochi tutti i giochi complessi tipo Call of Duty no perché le ultime cose non mi sono piaciute proprio anzi dagli ultimi due capitoli non li ho nemmeno giocati perché non si ammazzano abbastanza persone no perché c'è uno l'ambientazione della seconda guerra mondiale che mi è veramente stancato e quello prima non mi ricordo manco quale fosse però sto indietro sì anche qui ma prima o poi arriveranno su Game Pass dopo ti dirò che saranno bellissimi sicuramente comunque anche qui dice Call of Duty di quest'anno sarà il seguito del Modern Warfare del 2019 ma io Modern Warfare mi ricordo che era uscito nel 2008 Bruno non ho scritto che cosa ho scritto se tu cerchi Modern Warfare 2 e su ma perché Wikipedia Warfare scusami non è Warfare Warfare Welfare eh scusate allora quello della puntata Modern Welfare Modern Warfare no Welfare della CGL ho fatto una crasa ho scritto Welfare ho detto quindi Welfare tipo dove fair comunque 20 maggio 2014 2014 2000 periferi che mi ma 19 il caso Modern Warfare forse io sto parlando di Modern Warfare ti passo il link Bruno perché io poi sto impazzendo probabilmente Modern Warfare te l'ho passato mi riesce Modern Warfare però se cerco Modern Warfare questo è come il finale di Robo come ti chiami figlio esce esce un video in esce un video in arabo dico solo questo che ci vuoi dire Simone che cosa è un messaggio in codice per i tuoi amici dell'Isis Welfare esatto hai visto che faccio anche dei gesti quando dico Welfare Call of Duty Modern Warfare Sison C Call of Duty Modern Warfare Sedge comunque Mike Sison la sede di Babbel esplosa comunque ragazzi Modern Warfare ah no Modern Warfare che è sta roba ma sarà il sesto video il sedicesimo video guarda qua che roba ma è quella ma questo non è questo è Modern Warfare non è questo è il nuovo gioco di Ubi che ucciderà Fortnite è Fortnite e si chiama Modern Warfare no è Fortnite no no è proprio Fortnite Fortnite si ok però quello che è Modern Warfare è veramente Fortnite vediamo cosa vediamo cosa dicono cosa ci dice questa frase in arabo che ci scrive vediamo che ci dice questa frase allora Sippo mi sta spiegando perché io non ho capito Simo il Modern Warfare Warfare del 2019 è un remake reboot ha qualche cambiamento rispetto all'originare per il 2 probabilmente faranno la stessa operazione operazione Warfare e Carmine ci consiglia Cambly per migliorare la pronuncia usate il codice sconto Biggio con una G per risparmiare il 10% però potete imparare soltanto il sardo come lingua migliorate la pronuncia del sardo comunque 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 suppongo che l'unico che può parlare di Modern Warfare o di Call of Duty in generale è Mirko non penso che voi siete no io l'ultimo che ho giocato io ci giocavo all'epoca ma non me lo ricordo più l'ultimo che ho giocato quello che fosse quello per Wii all'epoca quando aspetta aspetta alessio all'epoca quando il 2019 il 2009 il 2004 quale io credo 2010 immaginate che casino che deve essere ogni anno pensare a un titolo nuovo una volta che hai fatto Infinity Odyssey del 2007 Call of Duty 4 hanno fatto Revelations perché a un certo punto c'è sempre e ora c'è cazzo è uscito per DS come il momento in cui non sanno come cazzo chiamarlo e lo chiamano Revelations tu pensa dentro dentro gli uffici quando si riferiscono a uno piuttosto che all'altro esatto che bello che ci deve essere Call of Duty 1 ci vorrebbe a questo punto va bene no io ho giocato quello proprio per sì all'epoca 2007 uscì nel 2007 prima della crisi economica del 2008 per chi sa ricorda ricordi dire apprensibile è che si è divertito The Big Short The Big Short ci giocava il mio coinquilino Carlo che saluto ci giocava un po' bastai cioè stava tutto il giorno perché avevamo messo il computer attaccato alla televisione in cucina lui stava tutto il giorno in gioco con mouse e tastiera wireless questo Call of Duty tutto il giorno poi hanno scoperto che era microonde ragazzi arrivava la faceva il platinava il multiplayer cioè non platinava però arrivava tipo a livello massimo che poi la funziona che quando arrivi a livello massimo fai prestigio 1 ricominci prestigio 2 ricominci lui arriva tipo a prestigio 500 poi lo disinstallava ricominciava da 0 poi lo disinstallava perché doveva studiare una volta giocando anche uno contro l'altro eh? come approccio no no perché comunque già allora aveva quel multiplayer che credo che poi fu una grande diciamo che era di Modern Warfare 1 a quella giunta se non sbaglio sì credo che fu proprio Modern Warfare il primo gioco a popolarizzare questo tipo di multiplayer dove a ogni partita sblocchi qualcosa e quindi c'è sempre l'incentivo perché prima credo che i giochi multiplayer fossero tutti un po' alla Quake 3 cioè che vai in multiplayer tutti uguali e armi tutte sbloccate oppure te la raccogli sulla mappa eccetera eccetera a Modern Warfare mi sembra che diventò proprio cioè c'erano le keystreak non mi ricordo se il primo non c'erano forse le ladder addirittura integrate cioè comunque le ladder sarebbero? eh che c'è il tempo c'è le scuse la delle partite classificate penso all'interno del gioco mi pare di sì no le killstreak c'erano quelle c'erano antitesi sicuramente quelle sicuramente c'erano facciano dei multiplayer prima di quello forse allo c'aveva qualcosa no no va bene in Call of Duty forse allo c'aveva qualcosa del genere anche nel multiplayer a livello di sbloccare livelli armi e cose mi sa mi sa di sì qualcosa c'era non mi ricordo se era allo 2 allo Ricci sicuramente ce l'aveva allo 3 forse ma Ricci è uscito dopo con lo video Ricci è uscito in 2010 allo 3 prima un po' di videogiochi una volta non ci siamo più abituati Simo è quello che un Modern Warfare però io Call of Duty mi ci sono ho fatto pure un po' di online quando su Adler 60 devo dire ragazzi comunque ti ci divertivi dovevi giocare pure altro però ti ci divertivi beh dai Modern Warfare 1 era figo era bello c'era anche una gran bella storia si pure la campagna poi c'aveva quei personaggi iconici c'era Ghost c'era il baffone personaggi iconici quello lì dai quello con i baff però dai è un'icona è un'icona è un disegnino ma io credo che sia stato poi scusa Simone credo che sia stato anche il primo il primo FPS ambientato in una guerra moderna non mi sbaglio cioè prima c'erano seconda mondiale prima era mondiale il primo Call of Duty no Soldier of Fortune era pure quello era ambientato comunque le case stricchi intendo che stavo dicendo anche Carmine che era stato Alan Sirile intendo che te una volta che facevi una serie di uccisioni avevi gli aiuti il UAV e appunto il UAV invece una volta era soltanto quello sì chiaro che quello che ti diceva una due uccisione fighissima eccetera c'era già molto prima da sì anche quei tre ce l'aveva esatto sì o Unreal dicesimo no che io ho giocato se mi ricordo quello che stavo dicendo che io ho giocato online ho giocato il Black Ops bello Black Ops era uno dei più belli anche qui Black Ops non era male aveva i finali moltiplici aveva delle scelte durante le missioni che ti cambiavano i livelli era molto figo forse il più bello di tutti il primo Black Ops poi andava avanti e indietro perché c'era questa roba questo meccanismo di flashback durante l'interrogatorio insomma alla fine hanno avuto cioè magari poi la serializzazione so le cose no come Assassin's Creed cioè quando poi ne fai uno l'anno e c'è necessità comunque scusa ti interrompo un secondo qua ho beccato il video con la missione di Chernobyl veramente inquietante il viaggio di sotto i nostri governanti si sono venduti all'Occidente distruggendo la nostra cultura la nostra economia e il nostro onore porca Eva chissà se denazificavano anche lei e poi esce Call of Duty 2 che c'aveva pure Modern Warfare 2 che c'aveva pure la missione no Russian quindi ah porca miseria proprio il timing perfetto perfetto non poteva andare meglio di così secondo voi la mettono forse il timing è stato fatto apposto potrebbe essere siamo passati dall'altra parte dello specchio invece che i russi in questo giro potrebbe essere no qualcos'altro io pure penso non so è molto delicata come questione no ma sei matto fa uscire adesso una roba del genere a parte che sarebbe di un grezzo veramente a parte che poi gli FPS vanno tantissimo in Russia credo appunto davano che adesso non so che cazzo sono tornati a giocare a Counter Strike forse manco c'è ancora Steam in Russia è ancora la corrente sì e quindi dicevo il il multiplayer di 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 Black Ops a me non dispiaceva ma ripeto questi giochi specialmente Modern Warfare Warfare c'aveva un po' di c'aveva un sacco di roba cinematografica cinematica questi filmati era proprio Black Ops non ricordo quale che era palesemente ispirato a Fight Club ti ricordi quella questione della doppia personalità però non mi ricordo se era l'uno o il due era il primo era il primo era proprio tanta roba per quanto appunto ripeto è una piccola parte dei giochi che uscivano ed era una roba che si mangiava un po' al mercato perché comunque erano quei quei progetti che si potessero fare e si potessero permettere di fare poche software come oggi però insomma era un'industria enorme infatti hanno retto quasi dieci anni più o meno a livello produttivo sempre molto alto poi a livello di valore insomma piano piano scendeva diciamo valore che cosa intende? beh scusa valore beh insomma come gameplay come evoluzione del mercato cioè Modern Warfare ci aveva sicuramente insomma può rimanere alla storia e si può citare Black Ops 2 o Black Ops 3 addirittura non mi ricordo come si chiama quello come si chiama quello che c'era che mi spesi future alpans cioè quella roba non la c'è neanche più hai speso i soldi a cazzo ma secondo me c'erano delle belle idee anche in quello sì Mirko però un conto un conto le belle idee un conto un bel setting cioè quando azzecchi tutto secondo me secondo me anche perché quando sono usciti Modern Warfare comunque l'epoca Xbox 360 era un po' governata dagli FPS TPS quindi diciamo poi quando usciva l'eccellenza da quel punto di vista non essendo proprio l'epoca in cui il Giappone era morto spiccava poi dopo è diventato un po' più eterogeneo come mercato fortunatamente quindi magari spiegare un po' bene sì sì appunto quindi comunque secondo me nella storia del videogioco diciamo moderno comunque degli ultimi 10-15 anni anche 20 però insomma io ce li metterei tutto sul trascorso quindi più di tante altre robe chiaramente ripeto magari Modern Warfare magari Black Ops magari forse anche l'Advanced non lo so però insomma cose che hanno fatto un po' progredire il media secondo me non tutto sì anche a livello economico cioè anche per come monito per chi veniva dopo su come non fare e su come produrre le cose in maniera proprio oculata cosa che magari Ubisoft non eh in che senso e magari di non fare due studi che ne fanno uno l'anno a manetta 10 anni spremerli loro spremerli tutti per poi ritrovarsi con un brand che ha fatto un tonfo in basso di manco più di tanto sì infatti dite che è stata più graduale la discesa tunfo grosso loro non è che sono vent'anni che diciamo che sta in declinio però dipende se parli di gradimento del pubblico è un conto di vendita è un altro deve stare sulla cresta dell'onda è un altro ancora perché loro comunque con Warzone si sono ripresi alla grande sono risprofondati adesso c'è aspetta aspetta certo però la roba io conosco almeno le persone che conosco appassionate non lo toccano il single player vanno a fare il multiplayer e e poi adesso sono passati non hanno proprio più hanno comprato il penultimo ma non mi ricordo ragazzi però il penultimo i titoli non mi ricordo ma guarda ci metto perfettamente in quella serie io per veramente negli ultimi penso 10 anni a Natale davo da GameStop tutti i 24 dicembre GameStop aveva l'offerta di Call of Duty a 30 euro e io lo lo prendevo tutti gli anni e lo giocavo alla vigilia di Natale mentre la metà della famiglia andava la mese e mezzanotte io stavo ucciso gente su Call of Duty però per quello che ti dico è un gioco che è uscito continuamente la gente l'ha preso poi gli ultimi si sono cambiati ma perché ha preso quella deriva molto più in cui c'è una scelta di due titoli una volta erano uno all'anno adesso se sono arrivati a un certo punto in cui ce ne avevi due all'anno perché c'hai il Warzone che è un titolo a parte e tutto l'altro e ti assicuro che per un fissato di sta roba non è manco facile convivere col fatto che c'è un Call of Duty che però non fa per te che non è quello a cui vuoi giocare fa stranissimo e secondo me questo ha anche portato i giocatori a fare una scelta o giochi a quello o giochi a qualcos'altro mi pare che anche cioè io ne parlavo con Rob di NG Plus appunto dei giocagli e tutto ma poi sia né lui né io l'abbiamo presi gli ultimi perché il senso di quello che dico è che per me dopo un certo numero non hanno portato nulla al media ma hanno portato alle vendite ci può stare comunque è un marchio enorme che smuove e che con il free to play sta facendo i numeri enormi quindi vuol dire che loro sanno sanno fare questa cosa non sto dicendo di no però modern warfare se lo stanno rifacendo e se uno pure Bruno ha messo il video e ci ha fatto caso era un'altra ispirazione c'è la missione sulla nave ho visto per me almeno secondo me era un'altra ispirazione totalmente c'era proprio un altro tantissima roba come ti posso dire insomma io la vedo così era pure una novità si dico era pure una novità poi quando lo fai per vent'anni venti volte ci vuole assolutamente comunque ho trovato questa pagina su questo sito statista che credo che abbia statistiche un po' di tutto fa vedere i dieci capitoli più venduti fino a 2019 quindi fino a tre anni fa al primo posto c'è Call of Duty Black Ops che è del 2010 poi con 30 milioni di copie anzi quasi 31 poi c'è Modern Warfare 3 del 2011 2012 2013 però insomma al 2010 in poi sono passati da 31 milioni di copie mano a mano hanno cominciato a declinare fino a 2015 Black Ops 3 con 27 milioni di copie quasi però ci dovresti integrare i guadagni di quello online in questa per essere realistica non lo so ragazzi 27 quello che ha venduto meno è stato Call of Duty World at War del 2008 con 18 milioni che fu quello che è uscito dopo Modern Warfare e però di capitoli dopo il 2015 non ce ne stanno in questa classifica che è una classifica del 2019 quindi significa che dopo il 2015 non sono riusciti a vendere più di World at War quindi non sono riusciti a vendere più di 18 milioni di copie poi tu dici 17,67 milioni di copie poi tu dici Fabio che comunque bisogna calcolare i guadagni anche online microtransazione eccetera eccetera beh perché l'online comunque lo dai a parte a quel punto però ragazzi è una cosa del successo però sì appunto noi stiamo parlando più che altro di copie vendute poi che ci siano ci sia la possibilità di guadagnare come o anche di più tramite microtransazione e cose anche se la base utenza si restringe anche se poi qua ho trovato un altro articolo di quelli che hanno venduto di più e questo è del 2021 e però qua diciamo che più non mette per ogni gioco l'anno quindi era meno però qua mettivano come menzione speciale con lo viti mobile per dire che alla fine più di un miliardo cosa succede se bevi molta acqua acqua radioattiva fai una minzione speciale porca puttana ti è piaciuta questa eh sì eh sì però però cioè appunto con lo viti mobile l'hanno scaricato 250 milioni di volte però solo senza te sì sì vabbè però vabbè free to play ragazzi però ecco insomma secondo me eh c'è da da distinguere quello che fa nel media nel nel non dico nel mercato di riferimento perché il mercato è un'altra cosa ma a livello di ispirazione a livello di quello che rimane rispetto a le vendite rispetto agli introiti perché eh secondo me sono cose da di cui fai la differenza insomma ti fa la tara sì sì però insomma vabbè che adesso comunque appunto se c'è su mobile è proprio un altro perché poi noi abbiamo come tanti giocatori più o meno dalla nostra età abbiamo questo difetto che il mobile lo conosciamo poco mentre c'è c'è non un mondo di più che si mangia tutte le megaproduzioni che noi pensiamo oh Last of Us 2 pensate e poi vedi quella che a noi sembra una cagata tipo Roblox che magari si mangia Last of Us 2 con tutta Sony la sputa la caga la brucia però Roblox su cosa su almeno su app store cioè sull'app store di IOS io non non l'ho visto se magari ci sta c'è comunque Roblox non lo so perché là forse c'è la cosa di Android S mi sa che c'è su PC c'è su PC sì sicuro su IOS forse c'è la cosa che non puoi far girare no c'è c'è non puoi ai giocchi allora come l'ho detto ah numero 1 avventura figurati c'è c'è perché io sui giochi ah perché mo le classifiche le stanno stiamo giocando a Genshin Impact Pokemon Go Project Makeover Dimo 2 Pikmin Bloom ah l'ho provato Magic The Gathering Fantasian con il personaggio di di Nerdomata praticamente però senza Sakaguchi Sayonara Wild Arts Leighton Mystery Journey e lo dovrei provare quello Apple Arcade Music Dream Adventure sì questi sono quasi su arcade che palle oh top giochi a pagamento Minecraft ragazzi 7 euro primo posto 7 euro sì ma finalmente 7 euro non 20 però sul telefonino monopoli gioco da tavola Deliverit 3D Fill the Fridge Supergoal Stickman Calcio top giochi gratuiti d'altronde group coaster Rusty eh sì infatti il mondo mobile Angry Birds ancora oh ma c'è Edit Finch su ma che scherzi c'è Edit Finch a 3 euro su su iPhone eh gioco stupendo però anche a me mi riporta sempre una missione dove mi trasformo in un gatto spero risolvano perché il gioco è davvero magnifico a me spesso nella realtà infatti sembrava una cosa come in arrivo Diablo Immortal Ninoguni Cross Worlds ho letto Worlds ma quindi Diablo Immortal ancora deve uscire anche su mobile e a quanto pare per mobile Diablo Immortal no no è pure su PC l'hanno anche su PC sì l'hanno detto sui giorni ah io avevo capito che era già uscito su mobile e doveva uscire anche su PC non che doveva uscire ancora su mobile sa che è uscito il tempo fa una beta va bene va bene andiamo a Nancy qualcuno è citato per System Shock Remake ma non l'avevano avvicinato beh infatti è quasi completo e il gioco è appena che non mi avete fatto messo backsoft like back backerato mi sembra che l'avevo backerato però non mi avevo messo io a proposito di backeraggio a proposito di backeraggio andate di recuperare la considerazione su che ha fatto Brown su sul canale audio su backsoft riguardo a su backsoft l'ha fatta su backsoft no l'ha fatta su su backsoft su kickstarter sui progetti kickstarter su uno dei giochi che è d'anni 90 che poi non è uscito eccetera eccetera e così che aggancio così vi iscrivete al canale audio e sentite questo podcast asimmetrico che avviene avviene tutti i giorni tutte le ore anche adesso potrebbero star facendo degli audio che voi potreste sentire in qualsiasi momento del giorno della notte del giorno e della notte potreste anche ritrovarlo su la mattina la mattina voi entrate quando vi svegliate di andare al lavoro alle 7 c'è radio anziano non da noi cercate proprio radio anziano che noi consigliamo chiaramente e poi di solito ogni tanto c'è un audio mio che come un matto in macchina faccio le recensioni alle 7-10 è un bello spettacolo da vedere nel traffico di Roma soprattutto rischio la vita no radio anziano hanno messo la puntata di qualche giorno fa c'era Lady in sottofondo allora ha preso la nostra idea Lady eh sì l'abbiamo l'abbiamo ascoltata con l'Easy qua Lady sono andato a rivedere il video su youtube e tra i primi commenti c'è il tuo no c'è praticamente una roba presa dal tizio che girò il video e questo qui ha fatto una cartina su google maps dove si trovano tutti i posti che si vedono nel video e voi potete andare lì e potete vedere tipo il diner dove vanno che non c'è più però potete vedere dov'è potete vedere la concessionaria dove prendono la macchina che invece c'è ancora la casa è tutto centro america cos'è era in canada era in canada perché lui il regista ha detto perché i moggi erano francesi e il regista ha scritto una cosa tipo ehi i moggi erano francesi poi loro volevano parlare al mondo e hanno fatto la canzone in inglese e quindi anche per il video ho voluto parlare al mondo però con un accento francese e quindi sono andati in canada a montreal a fare sono molto francesi anche i ragazzi tra l'altro ragazzi quello è il periodo della french house il periodo più bello della storia dell'umanità che purtroppo non tornerà più e loro tre erano tre tre veri adolescenti tre tre veri amici che presero insomma un casting sul posto ci sono anche delle foto forse le ritrovo sappiate anche che il campione di di lady di partenza è soup for one di ah si 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 del sister sledge o dei chic dei chic scusate dei chic c'è un altro pezzo dei mojo che si chiama chillin che vi consiglio che invece è un campione di ah beh non me lo ricordo che c'è un video molto bello nel bowling e c'è un pezzo molto bello e se vi piace quella wave ragazzi cassius 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 con il pezzo the sound of violence the sound of violence è capolavoro video bello che c'è una citazione enorme a 2001 di siano spazio e no ma c'è l'altra di cassius che si chiama i'm feeling for you che il video è di cassius che è questo supereroe che c'è tutta la storia il supereroe di come diventa supereroe eccetera e come corre è una delle cose più belle che stava fermo così dei cassius peccato che ci abbiamo perso uno dei cassius due anni fa c'erano anche noi quelli anche dei top top loro tup tup si che è famosa perché l'ha usata sorrentino sorrentino tra l'altro in Lady lì era quella che c'era più tette di tutti e tre vedendo le foto dell'epoca e c'è anche c'è anche la leggenda metropolitana che che quello pelato fosse Vin Diesel da giovane molto bella e a proposito ragazzi c'è anche il video di Secretly che non so se è mi pare che è successivo no precedente che è fondamentalmente la stessa Secretly dei scancanensi che è fondamentalmente la stessa cosa di Lady però un po' più ma il video dici il video di Secretly è esattamente il video non la canzone perché è un po' diversa ok ok scancanensi gruppo che oh ragazzi c'è c'è 5-6 pezzi che sono avvenuti nella storia della musica Scancanensi scancanensi dopo forse un pezzo mi avevano rotto i coglioni Charlie Mipoteto è capolavoro della vita forse dopo un pezzo poi mi avevano proprio detto edonismo come si chiama lì bellissimo minchia ma è la versione emo di sì 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 certo però anche un po' più originosa eh si vede si vede c'è un pezzettino di una roba tipo Trisom è molto però non mi ricordo l'anno ma in realtà anche il video di Lady pare che sia stato tagliato da MTV e nel nel sito della doccia nel sito del regista c'è una versione integrale quindi se lo volete andare a vedere lo ho trovato bene e andiamo avanti andiamo a System Shock non mi frega un cazzo a nessuno Matteo hai verificato se l'hai è quasi completato è quasi no parlo di voi ragazzi non del mondo di voi parlavo Backsoft tu hai verificato sono parte del mondo nel caso tu non lo sapessi sì sì hai baggerato sì però non è da qualche anno non seguo più un cazzo di niente ma se hai baggerato ti arriverà un email con scritto grazie sì ma arriverà mi sa che tempo fa mi arrivo a qualcosa per dire ma che cazzo è era spam l'hai messa nello spam era spam ho messo nello spam no ora nello spam no però ci avevo perso le speranze me l'avevo completamente dimenticato oggi invece mi sa che era anche l'ultimo l'ultimo Kickstarter che avevo fatto sì mi sa che era quello l'ultimo non l'ho fatta più e ragazzi adesso per la serie per la serie come posso questo è veramente memorabilio cioè leggere questa notizia oggi fa male al cuore Famitsu Final Fantasy 16 è ancora il gioco più atteso dai lettori cioè è da Fabio è una rivista giapponese quale gioco dovrebbe essere più aspettato dai lettori giapponesi aspetta continuo secondo è Bayonetta 3 il terzo è Splatoon 3 il quarto è Breath of the Wild 2 abbiamo dei problemi ragazzi ma non si sa manco come si chiama Breath of the Wild scusa al 5 c'è Xenoblade Chronicles 3 che ci hanno anticipato chissà perché Dragon Quest X Offline si chiama così proprio il gioco ok è 10 Monster Hunter Monster Hunter 10 è 10 è quello ho detto X va bene detto X sì X of the Wild il numero 8 Live Alive ma pensa tu Live Alive i remake 9 Pokemon Scarlatto e Violento comunque fermi tutti mi sa che Alessio c'ha una televisione accesa sta vedendo non lo so che cosa è Alessio il mio il mio compagno di stanza è la stanza a fianco tra la mia porta chiusa e la sua porta chiusa che cazzo di volume c'ha pensa che il microfono c'hai due ma pensa Alessio per il compleanno pensa Alessio che quando c'è un coinclino musicista è così però moltiplicato con lui è più un problema di anime a tutto volume che tu ti alzi la mattina alle 7 e non sai se sta guardando l'entra masturbandosi o no potrebbe essere qualunque cosa fare la sua e la sua questo fa un momento top si accendi la webcam e vai lì calcio sulla porta e dici che cazzo succede no e gli dici no no calcio sulla porta FBI e lo trovi che si sta vedendo gli anime calcio sulla porta e te col ginocchio rotto per te deve essere un bel momento di free play che stavo dicendo no vabbè niente basta basta tre spot traumatico oppure ci voleva lì il soffia il soffia foglie di Bruno come pensa Bruno entrai in camera madonna con questo un vortice di fazzolettini lo voli fuori comunque oggi oggi l'ho usato con la prolunga da 15 metri però non basta per fare il giro di tutto 15 metri fammi capire il tuo obiettivo chi è per averci bisogno di 15 metri no per fare il giro del giardino di tutto quanto però dietro non ci arrivo quindi dovrò però ho scoperto che in realtà avevamo una prolunga già a casa che è molto più lunga quindi l'ho usato anche con la macchina e credo di aver tolto tipo delle carcasse di insetti che stavano lì la macchina nel senso che te macchina spenta quello fuori e vai in giro andavo con quello però dopo 15 metri si staccava la spina ho fatto la macchina elettrica così però oggi ho fatto la cosa a parte che la mia macchina ha questo difetto che non riesco ad aprire il cofano davanti perché c'è la molla che si è ingrippata l'avevano pure sostituita evidentemente l'avevano sostituita uno che si è rotta un'altra volta però devo fare devo passarlo bene però prima devo togliere tutta la monnezza che c'ho dentro se no se mi vuole veramente tutto e quindi vi farò sapere no la cosa che vorrei far notare è che mo io non faccio i conti ma che cos'è che lo vedo qua all'ultimo posto eh cazzo se lo ricordi coi Capcom eh sì bellissimo vedo una bambina giusto perché è giapponese ovviamente e ci sta il ah è quello tipo col tizio che sembra destini però beh è che è una persona destini comunque i i giochi sono questi i voti cioè il primo posto con 689 voti capito cioè ah beh numeri da pagina hai capito da pagina il secondo 546 il terzo 530 guarda perché poi conoscendo i giapponesi sicuramente faranno i voti che gli devi mandare via posta quindi ormai penso non li mando a nessuno beh adesso ho aperto la su ah ok no ce l'ho fatta allora però al 26esimo posto aspettano Hogwarts Legacy per dire il disagio beh con quella grafica Hogwarts no ma la grafica non è cioè se c'è il gioco questi cavoli della grafica un dicesimo posto Ushiro non è Ushiro è Ushiro io intanto sto facendo il dicesimo c'è allora sono 4534 i votanti che diciamo che per una rivista scritta cioè se lo facciamo soffrire ma dice Doctor che è una cosa che fanno tutte le settimane in realtà quindi eh beh questa settimana ho capito ancora stiamo ancora stiamo con questo voto non è che pure se la facessero eh capito continua a essere diciamo un problema beh sembra figo questo Ushiro vediamo un po' questo trailer che sicuramente ci panderà tutti i copyright di level 5 allora ecco perché aspettato si il protagonista è uno che ha problemi che spia le ragazze ah e prende possesso del corpo delle ragazze attenzione vabbè allora aggiungete un voto scusate è un fantasma che prende possesso del corpo delle ragazze portanto questa visualizzazione ha più o 7 voti in più padre si si guarda qua e questo lo porta in cima alla classifica esatto è una fantasy chi? è molto giapponese guarda Shibuya tanto per cambiare mai visto prima lo fa Doctor dice nel senso che non capivo lo stupore infatti nemmeno io mi sembra una classifica perfettamente giapponese si infatti magari aspettano Modern Warfare 2 però non lo vogliono dire ragazzi ma aspetti un gioco che esiste diciamo come dire nell'immaginario nella stampa cosa si dai Final Fantasy 16 Final Fantasy 16 un video non ho capito non ci sono notizie non ci sono rumor non c'è un video e basta vabbè anche di Breath of the Wild 2 che c'è ma io ho detto 3 c'è solo il loro ma Roma ha detto un mese fa che ritardavano se non stavamo in linea ma fra un 3 esiste qualcosa hanno detto qualcosa di più perché pure quello c'era il video con il il nuovo il nuovo ah no 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 quello che hanno fatto vedere è la nuova espansione vabbè è una roba annunciata che sai che uscirà prima o poi e basta cioè non lo so non mi stupisce eh a me mi stupisce per esempio mi avrebbe stupito se ci fosse stato Final Fantasy 7 parte 2 che non si sa nemmeno se e quando arriva lo ricordi è vero che devo uscire però grande Giappone e comunque aspettano anche Pokémon Scarlato e Violento eh ma quella arriva a fine Scarlato Zalando Pokémon Zalando Zalando vabbè Zalando ah io nella mia stranezza che ah vabbè con questo uscire secondo me è il gioco più interessato tutti questi guarda come hai scritto formally cancelled cancelled sono cancellato con la cancelled culture di Twitter ma adesso che c'è Luone che si è comprato Twitter mamma mia è ritornato è ritornato quindi ci ha grazie grazie per quello Elon Musk vuole vuole salvare la libertà di di parola togliendola cioè comprando comprandolo usandolo in una persona grande ma si compreranno chi lo venderanno mai gliel'hanno già venduto mezz'ora ha trovato gliel'hanno già venduto si gliel'hanno già venduto si 44 miliardi sempre ha trovato 20 miliardi da qualche banca da un banca intesa banca intesa ha trovato perché gli ha fatto fare e Stefano sei contento che Kojima sta facendo un gioco al PS5 pare sì però dovrò quindi comprare al PS5 questo è è un problema non ce l'hai già? mi pare no perché non ce l'hai? perché non l'ho trovata e boh per adesso non è che me ne freghi più di tanto sinceramente addirittura un'esclusiva PS5 siete che Death Stranding vabbè poi Death Stranding non è uscito su Xbox no me ne preoccuperò quando si saprà la data di uscita e il gioco della PS5 mettiamola così però sono felice che esca un altro gioco di Kojima quello sicuramente secondo te che gioco farà Stefano forse un gioco tipo un po' stealth un po' di trama beh poi si spara un po' si nasconda ma un po' ce n'è solitamente a parte quello del pinguino direi che esatto un po' di quelle cose lì non lo so va bene basta che basta che lo faccia se facesse Snatcher 2 eh cazzo Snatcher 2 mi riempire di gioia però sarebbe sarebbe una mozza una grande mozza senti Sippo per lui fa un horror è vero se riprende PT Abandoned ragazzi Abandoned lo sai che di recente c'è stata un'intervista di Jason Schreier con il tizio di Abandoned che ha detto insomma c'è fatto un'altra domanda eh? che è stato Abandoned? no c'è Schreier gli ha fatto un po' di domande tipo com'è che usate gli asset quelli standard dell'Unreal e quello ha detto sì no perché c'è quel gioco e quindi insomma ha fatto un'altra domanda e ha risposto lui sì no e è scappato via sì non sa che cosa siano gli asset è andato via sì no la situazione ci ha un po' esploso in mano però volevo fare una cosa ah no ha detto tipo abbiamo usato gli asset perché erano di grande qualità e quindi abbiamo usato quelli giusto eravamo comodi ah perché se invece avesse detto quello che stavi per dire tu sarebbe un pernacchione da fargli hanno cavalcato tutto il cavalcabile no no ha detto anche mi pare che la situazione se volete riassunto tutto il fatto andate su young yeah su youtube che tra un video e l'altro dove dici che Battlefield nuovo sta precipitando in disgrazia ci ha messo pure questo qui è un canale di news questo qui questo ragazzo asiatico che ogni giorno fa un video su una news ha fatto tipo il mese scorso ha parlato tutto il mese che Battlefield sta perdendo i giocatori però ogni tanto ci mette anche qualcos'altro giustamente ti fa un video al giorno di news di che parli di Battlefield eh si no ma tutti i giorni tutti vi ricordate il Totocritic lui fa uguale però con i numeri di giocatori ah l'ultimo giorno su Steam c'erano 12.324.478 giocatori questo giorno hanno perso 24 o 5 giocatori mamma veramente non molla la preda e però si insomma non è che se li perdono nel senso dove sono no comunque sì ci starebbe un pt visto che comunque la gente è rimasta così credo che sarebbe una bella un bel colpo di di culo no volevo dire un'altra roba però non colpo di rini un bello spezzare un bello spezzare le rini visto che è già da rinforzio a chi lo dove spezzare a Sony non lo so è così a qualcuno qualcuno spezzasse le rini a qualcuno per favore tipo che viene il Kutaragi uè ciao i Dio lui gli dira un calcio proprio sul rini ah perché i Dio è vero tuo amico e lui e sotto escono i sottotitoli è l'ultima volta che mi tradisci Ken Kutaragi e così poi fa PT e poi prende PT e glielo spacca in testa dico fa la mossa finale e meglio non sbagliarsi coi PT perché eh sì pensa che poi se fa PT dovrà tornare in Italia per fare la foto di nuovo eh si carica tutto in macchina e vanno a fare il PT sì esatto e vabbè e va bene e vabbè diciamo che possiamo iniziare con gli extra credit ho capito che insomma siamo in orario siamo caldi e so che Fabio ha da dirci subito qualcosa sui extra credit vero? sì allora io come vi dicevo boh tipo un mese fa ormai ho ricominciato a vedere il wrestling e non so se avete visto stasettimana ho pubblicato un articolo per Outcast perché ho giocato il gioco nuovo della WWE che è WWE 2K 2022 quindi è proprio quello che devi vedere quest'anno 2022 e tra l'altro è un gioco che arriva dopo un anno sabbatico cioè loro hanno davvero questa cosa? sì vabbè arriva dopo un anno sabbatico dopo un anno sabbatico o la troia un anno sabbatico tra l'altro è tipo il primo Vigil da 300 giorni e si intersternano e dicevo che hanno preso un anno sabbatico perché il 2019 la versione 2019 è stata tipo un insieme di bug immenso quindi l'hanno mega floppata e quindi non hanno pubblicato niente l'anno scorso è stato un unicum nella loro carriera però devo dire ha fatto bene perché a quanto pare io erano anni che non li giocavo però a questo quanto pare gli è uscito abbastanza bene e e devo dire che anche a me ha ridato dei dei feels un po' dei vecchi anni primi anni 2000 da quando lo disintegravo io Smackdown su Playstation 2 cioè avrò passato migliaia di ore con i miei amici a giocare Here Comes The Pain e Smackdown Versus Raw che erano i i titoli dei wrestling nel periodo d'oro del wrestling qua in Italia e scusa fa però hai fatto l'articolo non hai messo un'immagine a causa del gioco c'è sto trader che però eh non le metto io le immagini a brù eh io ho scritto solo il pezzo e sì allora devo dire che mi piace molto sono rimasto tra l'altro stupito dalla quantità di roba in singolo che c'è perché l'ho sempre visto come giochi molto votati al multiplayer invece qua ci sono tantissime modalità che vanno veramente dal vabbè il classico esibizione match che poi fa in tutti i modi dalla gabbia uno contro uno tre contro tre otto contro otto roi a rumble eccetera eccetera però hai pure una modalità carriera con le superstar una modalità carriera con il personaggio che ti crei tu una modalità strategica in cui tu sei il general manager quindi decidi gli show le rivalità chi vince il titolo eccetera eccetera un'altra modalità tipo tipo il my team di fifa quindi c'hai tipo le figurine ovviamente pieno di microtransazioni però è figo da giocare la storia delle figurine ah poi c'è un'altra modalità storia che è dedicata al re misterio e ti fa giocare tipo i match più più importanti della carriera di re misterio ed è interessante perché mentre ti ancora re misterio gioca si gioca combatte ancora combatte ancora adesso sta cercando di lanciare il figlio che però è un po' un broccolo e perché c'è addirittura tutta sta attenzione verso di lui beh perché comunque è una delle superstar più iconiche che ci hanno adesso come tra quelle che io so rimaste nel senso che Undertaker si è ritirato Triple H si è ritirato dei vecchi 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 ci è rimasto su quelli che hanno un po' più carattere rimasti eh sì penso secondo me sì poi vabbè è vero pure che io l'ho perso di vista veramente per almeno 15 anni quindi non so bene cioè per esempio io mi sono perso tutta l'ascesa dei campioni da adesso adesso io me lo sto recuperando me lo vedo e più o meno adesso li riconosco però re misterio è un po' iconico cioè era iconico vent'anni fa e è rimasto pure adesso quanti anni c'ha adesso? c'era una 40-50 anni eh ma forse 50 no perché ho scoperto che Undertaker ce ne aveva 53 quindi lui ce ne aveva 45 mi mostrava qualcuno di più Undertaker devo dire c'era qualcosa peggio della Marvel l'abbiamo io non bestemmio perché Fabio ma che ti è successo? vabbè però scusa ma quando quando mi vedo sto pensando di finirla qui non va bene perché sono troppo snob o il vestido non va bene perché è troppo pop no aspetta io non ce l'ho con te quando guardi sto pensando di finirla qui c'è un buon personale e va bene e io ce l'ho col film non ce l'ho invece in questo caso non ti riconosco più ce l'ho con te no col wrestling ma guarda a me è sempre piaciuto nel senso che quando ero ragazzino veramente c'è impazzio e basta ma adesso non sei più ragazzino credo che dica che intendo eh vabbè sti cazzi per cosa per cosa sta ma perché non vai a teatro ti puoi capo a capo ma c'è per me convive non so leggere un saggio sui miti greci e il wrestling cioè non è che devo scegliere per forza una strana l'alto e il basso come in vita così in morte come in alto così in basso vabbè e guarda altronde poi cioè voglio dire non è che ho detto che non ti riconosco più però non è che ho detto figlio di puttana ma cioè non sei figlio di puttana non ti riconosco più Bruno oddio a Fabio ma pari tu zio Fabio ha detto Stefano che gli pari tu tu zio c'ho avuto un grado un crollo d'asca da Mercalli comunque questo gioco sembra incredibile vederlo allora intanto risponde a Simone come giocabile gioco me perché io ho provato qualche gioco di wrestling risponde l'attacco di Simone no perché dice cosa ci trovi a me piace l'idea che sia questo show in cui c'è un po' di sport mi piace il gesto atletico poi ovviamente le storielle sono abbastanza cringe però la parte atletica mi piace secondo me non è vero il wrestling sì ma che cazzo però fa la parte atletica cioè alla fine fanno sempre ste prise salti prise salti salti prise cioè boh non lo so a me mi intrattiene vedere i match poi dovete che ognuno si intrattiene io però mentre quando ero piccolo mi esaltavo pure io per il wrestling ma tipo all'epoca il match di Hulk Hogan mi pare contro Ultimate Warrior che Hulk Hogan prese Ultimate Warrior da dietro e lo stava bloccando Ultimate Warrior si è liberato confiando i muscoli Hulk Hogan non c'era più tenere e Hulk Hogan e con i muscoli e gli sono diventate le braccia così forti e muscolose che Hulk Hogan è stato respinto beh comunque è molto diverso dal wrestling degli anni 80 cioè è molto più fatto dei gesti atletici piuttosto che diciamo delle storielle così non c'è anche quello vero dove si fanno male davvero penso che la cosa più vicina sia l'UFC infatti adesso un sacco di c'è un sacco diversi lottatori che poi passano dall'UFC al wrestling per esempio c'è cosa c'è Ronda Rousey che adesso combatte in WWE o lo stesso Brock Lesnar mamma mia quello a me fa paura cioè se lo Charlie chiede se è John Cena o fa ancora il wrestler nel videogioco sì credo nel videogioco c'è di tutto Bruce Ultimate Warrior però ha preso il nome al nome cinese John Cena esatto esatto no no non è finto lui no non è finto chiedeva se c'è una versione con il sangue vero non c'è un wrestling vabbè c'è il wrestling vero tipo la lotta greco-romana no no intendo gente che si fa mosse potenzialmente mortali allora c'era un wrestling vero considera che comunque ci sono sia dei match anche in WWE cioè paradossalmente quando fai quegli extreme rules in cui te butti sui tavoli te sfondi sulle sedie te butti sui puntini e ti fai comunque male però all'epoca c'erano quando ero più piccolo io c'erano proprio le federazioni quelle più estreme in cui facevano proprio le robe solo ste cose però cioè alla fine mi ricordo quelli con quei neon che si spaccavano coi vetri sì sì però alla fine è sempre predeterminato l'esito dello scoccio è tutto già penso che sia una coreografia che loro sono credo che sia una coreografia che loro studiano prima cioè alla fine non è che c'hai il match di che ha vinto ha perso boh è tutto vabbè è sempre stato così si è lo spettaccio ma io da piccolo un po' ci credevo devo dire la verità alla piccola lo posso capire ma sono degli ottimi atleti specialmente quando l'ultima tu vuoi erano gonfiati i muscoli così in totali gente che fa palestra che sono degli stuntman sì eccezionali cosa che fanno sono degli stuntman tra l'altro uscirà i miei preferiti però sono quelli di jackass questo lo devo vabbè hanno avuto un match a presslemania quest'anno il team di jackass lo sai pensavo ecco con quelli di jackass questo lo vedrei conoscere con uno di c'era cosa aspetta come si chiama il capo di quelli di jackass johnny knoxville johnny knoxville ecco e mi viene il cavo visto il 4 no l'ultimo ma mi ha una tristezza vabbè c'hanno minchia a 50 è proprio quello si erano ad adolescente erano gli idoli sei ventenni idoli però facevano ridere nel senso però sai erano con le cose lì che di qua figo questa cosa vabbè però ancora non ha finito manco fabbio che pensa racchiudendo vedere gente grossa che semina mi rimette abbastanza al mondo questo per pure pure il gioco è figo nel senso che mi dà delle vibrazioni come i vecchi giochi di vent'anni fa quindi ci sono delle cose che mi sono portato dietro avendoci giocato migliaia di ore e dopo un po' insomma mi sono tornata alla mente però hanno un po' l'hanno un po' slegato ecco diciamo così prima era molto più legnoso adesso ci sono delle cosine che hanno preso dai picchiaduro quindi ci sono le combo ci sono le concanetaneazioni tra i tasti che prima non c'erano essenzialmente il tutto funziona ancora con diverse tipologie di prese la presa forte la presa più debole le finisher che 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 te carichi e poi le fai sull'avversario c'è lo stesso sistema di danni a parti quindi poi danneggiare la testa il corpo le braccia eccetera eccetera e poi dove colpisce la tua finisher insomma fai più male c'è più possibilità di schienarlo ma anche nel gioco tu hai detto che c'è una modalità gestionale no? sì e quindi puoi tipo decidere gli incontri o diciamo c'è un minimo di diciamo di verosimiglianza nel senso che gli incontri non sono decisi e dipendono dal no decidi chi fa l'incontro ma l'esito no ah ok quindi diciamo che non è proprio una simulazione simulazione più è una è come se fosse come si chiama quello del calcio football manager è football manager bravissimo scudetto però insomma tieni in mano tutto lo show quindi in realtà decidi quali sono i rivali decidi chi sfida per il titolo decidi che tipo di match ogni ogni superstar ha che ne so una statistica di energia di popolarità quindi se tu lo fai combattere in match molto faticosi dopo rischia l'infortunio eccetera eccetera non è profondissima come modalità però è divertente che comunque graficamente a trattati fa impressione devo dire sì ci sono soprattutto dei filtri che mettono sui match vecchi quelli nwo proprio walt kogan o ultimate warrior che veramente fanno impressione comunque graficamente era figo quella quella modalità dove rifai gli incontri quelli storici si passa dalla dall'incontro dalla realtà diciamo dall'incontro vero filmato poi diventa il videogioco e poi ridiventa quella è quella di re misterio sì quello è solo per re misterio è una specie di documentario che giochi sì è divertente carino sai che dovrebbero fare dovrebbero fare tipo il gioco di Van Damme dove però devi fare le scene i combattimenti dei film ah no tipo ma ci sono anche i cuori dei wrestler sì c'è tutto c'è tutto devo dire che da questo punto di vista è fatto bene anche diciamo come archivio perché veramente c'è un sacco di roba ci sono tantissimi di restri mi pare 163 una cosa del genere e poi adesso stanno uscite ovviamente anche i DLC però veramente ci sono tanti 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 contenuti non vedivo la modalità quella per creare la superstar è una follia perché ci sono migliaia migliaia di mosse migliaia di robe da mettergli addosso veramente da perderci la vita forse pure troppo per me infatti io non l'ho proprio toccata perché la prospettiva di stare un giorno lì davanti a fare il tizio proprio non me prende però è divertente no guarda veramente mi ha sorpreso non l'ho giocato multiplayer perché non ho avuto possibilità però in singolo è figo ovviamente dovete essere appassionati di pressing quindi ci dovete avere qualche problema evidentemente perché scusa vai no no dico perché ovviamente se no non c'è nessun appeal se non mi piace il wrestling vi consiglio a proposito per chiudere la puntata di John Oliver sul mondo dei wrestler su su tutta la storia su quello che ha combinato il caboccia che c'è adesso MacMahon quello è è peggio peggio di Amazon per dire quindi insomma da come la racconta John Oliver non è sempre una bella vita mamma mia sì no ma c'è anche tutta la storia di quando sono andati in Arabia Saudita tutti i rapporti che hanno con i vari i vari governanti principi che ci stanno lì il nuovo rinascimento ha detto Renzi però possiamo fidarci no io vi consiglio invece la puntata la puntata credo di Kings of Trimonia dove parlano di Robocop che citavano il fatto che mi pare che ci fosse anche Seven X per questo non è stato tutto fatto che in un match di wrestling c'è c'era Robocop c'è stato un match di wrestling però dice che alla fine è stata una pisciata che tipo è entrato due secondi ha spinto uno e se ne è andato una cosa del genere un'ultimissima cosa si sparava nelle palle e si un'ultimissima un'ultimissima cosa diciamo legata al wrestling più che al gioco in sé che rispetta ai primi anni 2000 insomma quando ero un ragazzino io che fa vederlo che diciamo per vederlo ti dovevi un po' ingegnare diciamo così perché mi sembra che Sky faceva solo uno show l'altro dovevi vedere in chiaro si taglia uno commentato da Ciccio Valenti insomma era senza commentare da Ciccio Gamer era meglio diciamo era provante adesso siccome Discovery Plus si è comprata tutti i diritti con 3,90 euro al mese vedete tutti gli show in diretta tra l'altro volendo oppure recuperate al giorno dopo poi c'è il commento italiano dei vecchi commentatori di Sky insomma adesso è facilissimo vederlo qua in Italia sia Rosi che SmackDown e niente mi ha sorpreso positivamente perché pensavo fosse ancora molto difficile comunque è una cosa che mi verrebbe da dire solo in America ci potrebbe essere una roba simile però alla fine in effetti c'è anche in Giappone no al Giappone sono ancora più fissati infatti tantissimi wrestler pure che combattono oggi qua cioè qua in America sono dal Giappone per esempio AJ Styles che è uno dei più famosi che ha combattuto un sacco in Giappone però l'ultimo uomo tigre che è uscito Tiger Mask W ma un po' deluso perché diciamo pure lì hanno diciamo alzato il sipario sul fatto che è tutto non che è tutto finto però insomma invece dell'uomo tigre originale che si prendeva super sul serio con i nemici che ti potevano uccidere sul ring tutte le mosse scorrette in questo qua invece nuovo fanno fanno vedere che comunque il wrestling è molta promozione pubblico devi farti vedere anche se poi ogni tanto fanno un po' la finta che sia vero che non sia vero il momento più bello è quando tornano a Tana delle Tigri e si scontrano tipo con i robot e così del genere è bellissimo però vabbè ok Fabio cioè gli altri no posso parlare quella volta che sono andato a teatro non scherzo Alexio o nulla sentiamo hanno fatto un cazzo scusa chiama il tuo coinquilino o faccio parlare qualche anno ma gli chiedo chiediamo che sta a guardare alza un po' il volume sta in silenzio e sentiamo da lui va bene Matteo perfetto direi io non sono d'accordo a me sembrava che stesse cercando di parlare però una volta che parla non funziona il microfono Matteo mi sentite adesso adesso si adesso si non ho niente ma mi hai inventato qualcosa va bene Stefano boh no però adesso non c'ho niente di madonna ragazzi parlo veramente del teatro no ma cioè non è niente di di che no Mirko allora io partiamo con Batman dai dai nel senso nel senso che allora partirò dalle cose buone che no parti da quelle cattive no dai partiamo con le buone no è un film che secondo me coglie in pieno lo spirito del personaggio visivo ed estetico mi è piaciuto un sacco come è rappresentato proprio Gotham City che non è quel lavoro la Tim Burton di rendere la propria gotica art deco eccetera ma è quel tanto che basta per rendere la Gotham City gran lavoro sulla fotografia mi piace molto l'idea che sia tutto appiccicoso giallonga e marrone proprio e putrida come città e secondo me ci sta molto bellezza direbbe qualcuno qualcuno direbbe bellezza è il termine giusto secondo me e per cui dal lato estetico è bellissimo il fatto che la Batcaverna sia dentro una stazione abbandonata della metropolitana cioè mi piace queste cose che sono integrate dove tutti gli elementi che ci sono sono integrati tra di loro e non è la caverna sotto la magione con la cascata che si apre e esce il jet cioè no è una cosa che ha una sua logica una sua funzionalità ed è perfettamente coerente e mi piace mi piace molto sta cosa ho trovato tutti gli attori in parte secondo me funzionano e ti è piaciuta l'interpretazione d'Alessio? aspetta al detective dici il commissario è un po' black Alessio sì è vero no no però mi piacciono tutti Andy Serkis come come il maggiordomo funziona no cioè e si vede che il regista è bravo è bravo a girare perché a parte un paio di cadute di stile comunque sa il fatto suo sa come si dice la scena sa quando crea la tensione eccetera il problema è che un film che io non entro sapete c'è il vizio di ascoltare i film senza guardarli qui è proprio il contrario è un film che guarderei senza ascoltarlo perché è veramente ma lungo non riesco nemmeno a capire perché sta scelta di lentezza perché la musica è bellissima quando è messa in certi punti vedi ste scene in cui parlano con la musica giusta è la marcia inferiore ragazzi è la marcia inferiore di quella però funziona dai è bello una volta tanto c'è questo tema che ti ritorna nel momento giusto anche l'idea che lui è in irvana sono perfetti infatti guarda non c'è un punto fuori posto da quel lato però porca miseria parlano veramente i ritmi uno in abbattuto ogni cinque minuti della lentezza estenuante è una cosa che secondo me non può proprio funzionare è la base di tutto l'intreccio cioè tutto sto grande intreccio dell'enegmista che si basa su una frase in spagnolo quando lui è totalmente social perché fai video con stile slipknot in televisione che vengono mandati in mondo visione e nessuno li può risolvere esattamente so sì 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 ma va bene ma ci sta però è impossibile che una cosa del genere non venga risolta automaticamente da qualcuno che lo vede è proprio l'intreccio follower lui sì sì follower che si vestono come lui anche quella cosa lì mi ha stancato in una maniera incredibile proprio il fatto di rivedere il cattivo con la sua stuola di sgherri che hanno praticamente tutti la stessa maschera per confonderti dopo un po' a un certo punto allora fammi il colpo di scena avrei preferito di che non è che c'è un enigmista ma sono tanti cioè non è è geniale come roba sarebbe stato un colpo di scena almeno un minimo minimo sensato il resto proprio non mi ha convinto e mi ha annoiato terribilmente questo intreccio come va avanti il pinguino personaggi messi lì che io ancora mi domando ma quello c'è nato a fare e poi boh ha fatto qualcosa cioè il film va effettivamente avanti anche nella dimostrazione di un Batman fallibile che ci poteva stare peccato che non c'è il minimo dei pathos le scene dove dovrebbe spingere invece di più però questa situazione secondo me non ci riescono peccato peccato perché comunque è il miglior film di Batman secondo me sì alla fine però è anche uno dei più noiosi meglio pure di cosa di non so piaciuto lo sapete questo qui a me piace di più sto Batman mi piace l'idea mi piace molto purtroppo io sono totalmente stato rapito dal lato estetico all'inizio quando guardo le registrazioni sembra quasi Blade Runner con sta tecnologia molto retro la macchina mi è piaciuta poi dopo c'è un certo punto in cui Batman si mette in sacco a pelo e si butta volando giù da un palazzo che è brutto una scena veramente terribile sì Carmine è vero che anche quelli di Nolan erano abbastanza pesanti ma c'era un po' più ritmo il problema di quelli di Nolan è che cadevano costantemente in quei cliché è la sua eredità signorino Wayne suo padre si aspetterebbe da lei che avrebbe fatto qualcosa poi arriva quell'altro suo padre signorino Wayne l'avrebbe dovuto difendere è la sua eredità sempre staminata questo non ce l'ha per fortuna sta cosa signorino Wayne ma il suo padre prima di morire gli ha detto che questa è la sua eredità ma l'hai vista la scena dopo i titoli perché era scherzare questa scusami vorrei combattere su questo ma Batman il secondo Batman di Tim Burton forse è il migliore per quello che mi riguarda ok adesso io ti prendo in considerazione Nolan e questo ah vabbè quelli vecchi secondo me è una cosa a parte ma io se mi dici rivedi quelli di Nolan e questo forse mi rivedo questo perché visualmente è bello bello mi piace tutto dell'estetica che ci hanno messo poi anche qui la moto con i cornini alla fine si e no vabbè però non funziona cioè non continua secondo me poi anche qui mi è piaciuto l'idea di ambientarla ad Halloween bellissima come idea beh è un lugo Halloween eh ci sta è perfetta finalmente sono quelle cose che Nolan non aveva voluto affrontare secondo me era molto di spocchia questa scelta mentre qui no hanno detto button noi dobbiamo comunque ripartire da quello che è alla base di button poi dopo si sono incartati ugualmente su proprio il fatto dell'indagine che è un'indagine per me veramente ridicola è ratalado che proprio è un'indagine mi sembra pensata per gli americani dove sembra complicata i due parole in spagnolo che santo Dio ci vivete a contatto con gli spagnoli tutti i giorni con i latini voglio dire e ancora stando lì a domandare se no è un piccione no è un colombo no è un coso ma poi il più grande detective del mondo quello però è il grosso difetto da sempre dei fumetti dove detective comics 90% di storie risolte con due schiaffi al punto giusto per cui abbiamo capito che in realtà qualsiasi problema si risolve con la violenza ma questo ci ha insegnato da sempre anche il resto che ci ha insegnato esatto per cui non mi stupisce ecco mi dispiace mi dispiace perché mi ha incollato lì davanti però mi ha anche ammorbato allo stesso tempo questa cosa purtroppo mi è dispiaciuta mi è dispiaciuta perché ho quella sensazione che potrebbe essere veramente un film eccezionale da un certo punto di vista vediamo il scopo magari azzecca non lo so il regista a me lui piace comunque come gira se riesce a trovare in tre c'è un peletto più funzionale e una cosa un po' più come devo dire anche terra terra però diventa anche un po' il problema di questi film perché è sempre quella del terror ormai siamo sempre legati o abbiamo il nemico cosmico quindi tutto marvel mostrazi robe minacce incredibili o il ormai il terrorista etico tra virgolette che in realtà è quello che lo fa perché ha bisogno di sfogarsi contro dei sopprusi che ha subito e non riesco a capire se c'è un modo di uscire da questa situazione ecco secondo me sì ed è appunto il più possibile sulle scelte morali cioè su quello che rende il supereroe supereroe che ancora qui non c'è niente se ne uscirà quando qualcuno riuscirà a scrivere un cattivo diciamo un cattivo un villain diverso che funziona ma c'è delle situazioni in cui uno deve fare anche delle scelte perché c'era il superman superman ritorno su questa cosa del dove uccidere per fare del bene ma era messo in una maniera talmente gofa purtroppo che guarda lo posso dire che all'avvine Jogger lo fa bene no perché dopo ritorno sempre lì aspetta finisco se tu mi vuoi incarnare il pazzo c'è anche Joker in debatto a pare no 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 Joker il film ah scusa scusa sì sì ma infatti questo secondo me si parte da quello come impostazione però Bon Joker è un altro livello secondo me eh no te lo dico con tutto che sai pensavo parlavi di Joker come cattivo non di film sì sì la cosa che sono riuscito a fare è trasmettere che la cosa dovrebbero fare oggi dopo vent'anni trasmettere passare usare una metafora del del supereroe o del cattivo o del villain si ambientata come l'operazione Joker che è una bellissima operazione poi magari poi piacere non piacere però c'ha sicuramente un fascino diverso dal vedere ancora ed è quello in questo crolla questo Batman perché ce l'avrebbe stai in quell'universo lì fondamentale e invece poi e io avrei accettato anche la tuta eccetera invece poi è tutto molto banale mentre la tuta Joker questa banalità non ci sono i problemi del film però questa roba non c'è sono riusciti a comunque renderlo cioè il vestito da Joker ti mette ancora più paura perché è un matto che sta in quella situazione cioè ti ci porta qui infatti secondo me lui il Batman funziona quando fa delle quando è solo sulla moto eccetera va benissimo quando la macchina in seguimenti interagisce con le persone imbarazzate bravo infatti ti dicevo entri dentro le stanze le stanze sono tutte bellissime c'è il momento dentro la stazione è meravigliosa architettonicamente la scelta dei set non c'è un set è un props che so fuori posto in questo film poi arriva lui con lì anche sembra che ha portato il tuo figlio quando porti tuo figlio a lavoro a carnevale capito l'idea del quando te sei a carnevale ad halloween e devi andare con il costume a una festa la sera ma sei vestito e devi fermarti tipo all'autogrill e entri dentro che cazzo va la sensazione che dici finché sei alla festa va bene puoi anche guidare in macchina lo posso capire ma nel momento in cui devi scendere fa una pisciata all'autogrill vestito già è terribile però mi sono preso l'artbook ed è molto molto bello cioè confermo che c'è una ricerca hanno preso poi Justice Sweet tutta una serie di artisti molto molto bravi che si vede proprio il tocco che gli hanno dato e secondo me se c'hai quella già quando hai fatto quell'atmosfera lì è un 80% il resto puoi comunque far qualcosa di molto bello e almeno il carattere ce l'hai cazzo cioè ecco non è un film completamente senza carattere un film senza anima questo no però mi aspettavo di più no perché non mi aspetta ormai niente da una cosa che ci abbia scritto cinecomic davanti però sono finito con la sensazione che poteva essere un gran bel film e non ce l'ho fatta poi purtroppo la giusta sensazione o negli astro non dico altro ci siamo capiti ok va bene e Mirko c'è altro? c'ho Lord of Metal Metal Lord che è un film Metal Lords che è un film appunto sui metallari che hanno buttato fuori su Netflix e racconta la storia di il super emo fissato col death metal capellone che su tutto The Cradle of Field eccetera che nella sua con la sua improbabile amicizia con un altro che è uno sfigatello ma grande batterista che cercano di vincere la battaglia rock della scuola scritto così sembrerebbe anche carino è un film terribile ma l'ho trovato questo proprio di una povertà sia di recitazione che sembra girato come manco la peggior puntata della sitcom di di un qualsiasi serie televisiva questo non c'è niente di filmico proprio niente di niente di niente purtroppo c'è una povertà incredibile la scelta delle musiche tutto sommato non è male c'è una battuta in tutto il film che mi ha fatto ridere una quando si poteva veramente veramente far tanto di più quella cosa e film veramente mediocre mediocre in tutto cioè io mi dispiace non riesco a capire chi io poi lo dico da appunto diciottenne sedicenni appassionata di Iron Maiden e robe però non c'è quella cosa è sempre la solita storia dei due fissati uno a un certo punto troverà la ragazzina so carine un paio di loro nella ricerca del bassista per la band trovano poi una che suona il contrabbasso se non mi sbaglio e quindi ci sono un paio di cover con stile un po' apocaliptica col col contrabbasso sotto che sono fighe però finito lì cioè secondo me è proprio un pessimo un pessimo film prodotto da Tom Morello poi c'è un certo punto c'è l'apparizione di Judas Priest e altra gente ma niente niente di che proprio da evitare secondo me ok Bruno io non ho niente a parte il super soffiafoglie non so se volete sentire i dettagli o se rimando vogliamo sentire soffiafoglie accendilo non posso perché mi sa che svegliere tutto il quartiere che per mamma guarda Bruno se ci dici così cioè possiamo resistere vogliamo un audio nel canale voglio magari vi faccio un video addirittura vi faccio vedi in cui 4 g ti muovi questo voglio di aprire l'acqua te mi vuoi dire che non ti sei messo su una sedia con le ruote e l'hai acceso no è un'idea in effetti ho mandato un video mettilo di lato così giri in tondo anche no però il video che mi hai mandato quello stava su che cos'era quella roba un carrellino ma beh un secchio quello con le ruote un secchio per pulire non avevo fatto il collegamento che potevo farlo anche con la sedia con le ruote in effetti beh c'era un videogioco quello della play 3 che dovevi fare quello del move eh con le sedie che ho finito comunque sì no per farla per dire la premessa è che qua a destri tempi ragazzi qua dove sto adesso è mezza pinita mezza campagna e campagna no perché stiamo sul mare però è mezza pinita e quindi si riempie di di merda prima un mese fa c'era sto polline giallo che era diventato tutto giallo avevo steso le mutande fuori già le mie mutande non sono proprio perfettissime poi pure gialle figuratevi e poi dopo sto polline giallo del cazzo è arrivato sono arrivate queste mini ghiande che riempiono dappertutto si infilano dappertutto e per per pulire bisogna stare con la scopa normale bisogna stare tipo tre ore a fare avevo detto boh basta è ora di perché l'avevo già visto un soffia foglie all'inizio che stava qua poi ho detto vabbè dai facciamo stare però con tutta sta merda è ora di passare al livello successivo si 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 ho preso il soffia foglie della black and hacker aspetta che vi dico il modello preciso perché è importante se lo ritrovo qua risi a ordini ecco qua black and hacker soffiatore elettrico foglie sistema assiale velocità di soffiaggio 190 km al loro con quignatore ergonomica 1850 watt quindi veramente una roba quanto inquina e boh credo che ogni volta che lo accendo non lo so muore un bambino in Africa è tutta Tarant sì sì no tra l'altro poi qualche giorno fa c'è stato in effetti un black out però prima che comprassi c'era nero un black out e tu non ne sei niente scommetto in solita folata di vento ha seguito il black out avevano staccato tutto è quella la firma del super cattivo avevano staccato tutto perché dovevano fare dei lavori evidentemente hanno dovuto potenziare la linea dei ragazzi qua è il vento della morte lo chiamano gli ha chiamati Bezos ragazzi qua potenziali di elettrica perché darò un po' e niente io ho comprato sto coso che non pensavo onestamente non mi rendevo con avevo letto nei commenti come ho detto anche nel messaggio audio c'è uno che scrive il mio giardino ma anche i sassolini decorativi non è che mi risposta proprio è quello che risponde no lascia stare è il primo commento sì secondo me risposta è forte è forte 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 e quindi già da là ho cominciato a peper o mai di sarei riso cioè mai avrei immaginato cioè l'ho collegato e la prima volta che l'ho acceso è stato proprio un vortice un una 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 perché poi era oltre a ste robe era anche che fuori pulivo con sta scopina di merda no non la scopa non la spia polvere che è tipo isciutto c'è la scopa vai più o meno e quindi oltre a ste ghiandine minchiette ha alzato anche tipo credo non lo so che cazzo di cenere vulcanica buone ti è fatto proprio la nuvola di polvere tipo come quando usi il compressore col pc ma 20 volte tanto e ma stupito po' perché ti da anche un rinculo che devi essere anche bello piazzato devi mettere là devi puntare bene i piedi per terra ti devi mettere e quello ti spara dietro e te ne voli con tutto il cosa se non sei in grado di di diciamo sopportare questo spostamento d'aria intensissimo e quindi niente però c'ha il filo di tipo 10 centimetri non sto scherzando un pirulino che che pende da dietro e quindi bisogna usarlo necessariamente con una prolunga io c'avevo una prolunga da 5 metri e sono riuscito a pulire giusto davanti la porta di casa però ho ordinato comprando una prolunga da 15 metri che mi è arrivata ieri credo e con quella oggi sono riuscito a pulire tutto un po' intorno anche sono riuscito anche a pulire inizialmente la macchina e adesso ho scoperto che a casa ce n'è una ancora più lunga quindi la proverò vedremo un po' potrò anche andare in giro sopra sotto giardino tutto quanto e far e l'unico cazzo è che è veramente potentissimo e quindi se lo direzioni in una maniera sbagliata incomincia che ti fa saltare veramente tutto qualsiasi cosa che non sia saltata per terra salta perché c'è quest'aria e voi dite l'idropulitrice l'idropulitrice si si è figa però c'è sto problema che ci deve attaccare sia la corrente sia la pompa dell'acqua e quindi però Bruno quando vedi la propria la sensazione dello scrostamento il sivo provo che se ne va si si no immagino che sia goduriosa ma però capito nei controlli due poi penso si combini il soffiofoglie con l'acqua poi fa proprio un cannone ad acqua e in effetti o anche col fuoco magari non volevo arrivare l'acido l'acido direttamente si potrei mettere non lo so potrei sì l'unico l'unico limite di immaginazione il cielo potrai spegnere il sole con l'itropulitriso tu dici se la punto in alto poi comunque sfuggono la gravità terrestre le gocce d'acqua e fanno direttamente verso il sole maledetto e quindi no ve lo consiglio ragazzi se non e mi sono reso conti in effetti cioè chissà come deve essere figo sparare invece sparare con le armi ecco qua e sì perché comunque mi ha dato molto la sensazione da predator quando distruggono la foresta quando si mette quello il nero bill duke con la minigun e nasce da lì soffia foglie è nato dopo predator e sì e quindi pensa cioè non lo so se nella mia vita prima o poi la farò una cosa del genere che se però ci fa ecco io sono uno che viaggi mi frega un cazzo esperienze baggi già però se vedessi una diventare predator no un'inserzione ti facciamo usare una minigun per dieci minuti tipo tipo quelle le stanze dell'arabia che tu vai dentro e spacchi tutto però con una minigun ma siamo a poligoni non esistono eh ma al poligono e tutto so che anche a mariupolo in questo periodo vabbè mariupolo è un altro discorso nei poligoni devi andare con tutto con le pistoline cioè non è che massimo puoi usare pistole grosse non è che ti metti a usare i mitragliatrici proprio quelle pesanti io dico buona beh qua i fucili d'assalto li puoi usare al poligono si però non è la minigun perché questo si impugna cioè più o meno come una minigun lo vedi lo tieni all'altezza del fianco non è che lo tieni che devi mirare però lo potrei usare mirando tipo me lo metto ecco gli è venuta l'idea eh sì me lo metto sulla spalla miro prendo una via invece di tenerlo vabbè saluto Charlie che se n'è andata buonanotte buone botte e niente questo è stato l'acquisto l'acquisto del momento della settimana veramente sì sì la potenza degli elementi il vento tra l'altro vi segnalo che nel canale di Vuxia Channel Vuxia Central il canale che dicevo la volta scorsa che trasmette film di Kung Fu 24 su 24 adesso sono film di soffia foglie no stanno trasmettendo in stigione un sacco di film con Carter Wong e voi direte chi è Carter Wong era una delle tre bufere quella quella più grossa che alla fine si gonfia fino a gonfiarsi insomma quindi se volete recuperarlo c'è anche lui ok manco io mi sa eh sì e allora io faccio molto veloce l'unica cosa sto accogliendo nel ring sono arrivato a livello 60 e insomma continua ancora continua ah no ragazzi ho scaricato ehe football 2022 wow ma perché poi rompi coglione a Fabio per il wrestling capito eh un po' sì è bene almeno non ti riconosciano più non ha detto il film che aveva visto al cinema forse è meglio infatti sì sì stavo stavo dicendo questo volevo premettere intanto scusa Alessio dopo questa cosa chiaramente del wrestling e eh sì perché l'ho vessato per anni e poi per pensiero ma adesso supererai tutti in classifica col tuo ultimo film visto al cinema io sono andato a vedere gli idoli delle donne il film con Lillo Greg e Gozzanti e Godzilla e Gozzanti e ah ma l'idoli delle donne è il titolo del film io pensavo che era un soprannome di Lillo e Greg l'idoli delle donne no e praticamente la storia è che c'è questo super gigoloso super figo interpretato da un ex tronista credo o semplicemente uno che sembra un tronista non lo so che fa un incidente e fa un incidente no è di Prime Diamonds fa un incidente e sai quando dice ah è tipo Fabrice e poi si risveglia e Lillo cioè questo all'inizio del film è tutto super figo e poi si risveglia e Lillo e chiaramente tutte le donne già tutte le femmine tutte le che lui il giro che c'era prima lo facevano stanzito perché diceva solo cazzate solo frasi fate l'uoto lo sport più completo queste cose così e però era molto bello e quindi lavorava come Gigo lui invece dopo questo incidente lui non riesce più a lavorare e va tramite amicizie e cose va da questo guru che sarebbe poi Greg e che gli insegna una specie di itch diciamo così insomma insegna a fare colpo sulle femmine eccetera e e poi c'è Guzzanti che fa il il fa coso fa il plata o plomo lì è citato quasi esplicitamente il personaggio di sì di Narcos che dalla Colombia sì praticamente sì e dalla Colombia si spostano si troveranno si ritroveranno in in Italia e quindi le loro strade si intrecceranno non vi sto a dire come e dove andare a vedere Northman proprio tutta una serie di cose vabbè questo più o meno è Northman italiano potete andare a teatro però invece di andare a vedere questo che non ho capito potete andare a teatro invece di vedere eh ma le undici di mattina al teatro non c'è a teatro non c'è a teatro e niente e quindi e quindi niente ho visto questo film è è carino ma insomma non è niente di diciamo quando uscirà su Prime poi ho pagato 5 euro quindi va bene 5 euro è più o meno a livello di Black Panther insomma no è meglio questo è un trattenimento no no c'è delle cose no no guarda perché sono bianchi dici rispetto primo motivo quel rispetto a tanta roba che si vede in Italia qua c'è questo comunque nella media è un pochettino meglio compare compare anche l'undini e fa una parte ma canta brividi allora lo guardo no tra l'altro ragazzi c'è la quarta puntata della pezza che comunque regala sempre momenti e c'è un'intervista con Noemi che è quasi meglio o all'altezza di di quella con Irma Testa lì che è capolavoro cercate Irma Testa Valerio Lundini godetevi lo spettacolo l'ho vista 4-5 volte l'ultimo episodio mi ha lasciato un po' beh scusa tutta la scena con Noemi molto bene ho tolto quello e forse un altro po' di cose e la fanelli doppiata no mi ha emozionato gli altri io e di più gli altri di più da solo questo episodio solitamente come prima esatto mettiamo facciamo un cassonetto era meglio quando stava peggio vabbè e niente quindi ragazzi quindi fatto io ah no stavo dicendo che i football non ci capisco un cazzo però mi diverto ho fatto anche un gol nel frattempo quindi insomma 12 partite sì sì noi sono una pippa scatenata io compravo i FIFA quando era finita la stagione per pagarli poco cioè uno non ho comprato aspetta fermi prima che uno non ho comprato perché comunque mi rilassa metto lì sottofondo non prendo non faccio mai un gol prendo solo gol però non l'ho più comprato perché è successo una volta e adesso l'idea di averlo a gratis mettermi lì e fare tic tac proprio così tipo tappo tipo tappo insomma non è male comunque andiamo io direi che possiamo andare in chiusura se volete continuare voi se no io vado in chiusura perché poi vado anche a dormire e io sono stato Simone Cognome e augurandovi ancora buona liberazione c'è ancora mezz'ora d'Italia liberata prima che le persone che vanno le coppie che vanno a usare usufruire dell'utero in affitto potrebbero essere recluse fino a due anni costamente aggiungere grazie grazie alla prossima presidentessa del consiglio Giorgia Meloni e la sua proposta di legge quindi approfittiamo di questa mezz'ora che rimane salutiamo sentendo in diretta salutiamo di liberazione di libertà e io sono Stosimo Cognome e qui sono stati Bruno Barbera ciao Bruno ciao a tutti ricordate che per lottare con la libertà patreon.freeplane.it il vostro contributo è importante e cambierà tutto Mirko per Federici ciao ragazzi ciao a tutti adesso i ragazzi di Matteo ciao Fabio Fischi ciao Bexoft ciao Stefano Biggio da Retrocast NG Plus ciao ragazzi fate ciao ciao allora facciamo il ride a Gaunt Noir perché fa un podcast che è carino che non ricordo come si chiama però come si chiama sta giocando a Resident Evil 2 mi sembrava no Resident Evil no Evil Within che Resident Evil che Resident Evil è questo scusa il 2 mi sembra il 2 ma fa essere il 2 questo è che è questo il remake è lì il costume ah il costume da te e come non bastava hanno fatto anche il 4 first person ciao ragazzi fate un bel saluto a Gaunt Noir ciao di bravi ciao 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 ciao